Voi sapete che la votazione è a due uomini, c'era una giuria tecnica che è in parte quale è presentata e c'era la giuria popolare appunto PES 100, partiamo dalla giuria tecnica partiamo dalla giuria popolare, partiamo dalla giuria popolare, abbiamo in testa di vacanza non facciamo la giuria, non facciamo la giuria, non facciamo la giuria, non facciamo la giuria quindi andiamo per lì Sarebbe il professor Sarebbe il professor Sì Io ringrazio le 628 persone ma ringrazio tutti loro perché vi ringrazio per ciò che hanno fatto, per la passione che ci hanno messo e quindi io non ho votato non ho votato perché non ho votato perché per me si ma si scaglia se non fanno 40 non lascio 20 per centri giù giustamente io non ho votato perché per gli italiani che ho e soprattutto perché è permesso questo è tutto il resto di verbo ma non questo per condire il posto che è stato dato perché è molto importante perché è molto importante questo è molto importante è un curioso ma è un curioso ma è un curioso ma è un curioso allora premio della giuria popolare a tu per tu con Berosso Dossoli all'opera numero 21 grazie 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 Grazie.